Si chiama Liver Pudleon Connor, è un uomo il quale non esce di casa da ben un anno. Troppo rischioso per questui andare a parcare la soglia e entrare in contatto con l'esterno. Infatti questo ragazzo inglese di 27 anni età ha un disturbo chiamato un disturbo ossessivo compulsivo che lo spinge a filmare ogni movimento e impedire uscire incontri per paura che possa fare temare a qualcuno. E pensate che sarebbe convinto di aver fatto fuori qualcuno nel suo passato. Si filma in ogni momento, in ogni istante per assicurarsi di non affiatto il male a nessuno. Ogni giorno ha questa ossessione da pensieri brutti e cattivi. Si convince di aver fatto qualcosa di piuttosto grave che non va a ricordare. Così ha voluto condividere la sua storia per aumentare la consapevolezza del disturbo mentale che purtroppo lo affligge. E' una storia questa che ci giunge da Londra, o meglio dal Regno Unito, e che ha, diciamo così come denominatore, la paura. La paura per come la conosciamo noi, però radicata da una sensazione di malessere, più che totale, più che convinto e più che radicato. Vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio voi per la visione di questo video. Iscrivetevi se vi va, mi raccomando, un saluto caro a voi italiani, donanatori italiani.